Ecco cosa mi ha regalato questo posto. Qualche amico, un libro di successo, una casetta di legno e pietra, un cane che mi segue dappertutto. Eppure da qualche tempo sento una certa irrequietezza. Quando mi sento in quel certo modo, diceva Melville, so che c'è una cosa sola da fare. Deve essere venuto il momento di imbarcarmi un'altra volta. Grazie a tutti.